Legge Libertà praticamente da quando è arrivata l'edicola in paese, quindi dai primi anni 50? I primi anni 50, sì sì, l'abbiamo sempre presa insomma. Questa edicola mi ricordo il giorno che l'hanno aperta, si era nel 53, si passava dentro nella stanza dove lavorava il fabbro e poi andavamo in cucina a prendere i giornali. Insieme a mia sorella noi abbiamo cominciato, diciamo da quando siamo nati, prima c'erano i genitori e abbiamo seguito loro, però da quando siamo nati, quindi più di 50 anni. Il padre è cominciato nel dopoguerra, parla di consegnare i giornali, noi siamo novelli insomma. Io faccio 28 anni a maggio, ho iniziato a fare questo mestiere perché diciamo che ero un po' nel DNA, siccome io sono la terza generazione diretta, perché qui a Vigolzone nel 51 mia nonna ha iniziato l'attività, portata avanti poi da mio padre e infine adesso da me. Dal signor Carlo Bernazzani che da 69 anni ogni mattina va a comprare il giornale in bicicletta, alla famiglia Murosoli che di giornali, dal 1953 ad oggi, ne ha venduti parecchi, passando per Pierluigi Bongiorni che rappresenta la terza generazione di farmacisti del paese. Sono innumerevoli le storie che i cittadini di Vigolzone ci hanno raccontato ieri nel primo incontro di libertà nei paesi. Aneddoti, racconti di vita, ma anche impressioni e suggerimenti per aiutarci ogni giorno ad ascoltare e raccontare la voce della provincia. Questa credo sia un'ottima iniziativa da proporre sui territori e quindi vi ringrazio di essere venuti qua quest'oggi. Stare in mezzo alla gente, capire i problemi, ascoltare i problemi della gente, a volte anche prendersi le critiche che è giusto che ci siano, è l'unica maniera utile per poter, dal mio punto di vista come amministratore, per poter amministrare al meglio come il buon padre di famiglia perché se non si ascoltano i problemi difficilmente si trovano le soluzioni.